Allora Stefano, parliamo della partita che è finita forse come voi non vi aspettavate, ma parliamo anche del tuo rientro da titolare che credo mancasse dal 2 luglio, da quella gara con l'Italia, quindi anche le tue emozioni. Sì, parto da me, sono abbastanza soddisfatto, è normale che non ho i 90 minuti nelle gambe, ne ho forse 60, però oggi era importante aiutare i miei compagni, io non mi sentivo di uscire, quindi diciamo che si può solo migliorare. Per quanto riguarda gli ultimi minuti, come ho già detto, dobbiamo sicuramente migliorare, dobbiamo lavorare, valutare gli errori e non ripeterli, però forse tanti non si rendono conto che davanti avevamo comunque una signora squadra con tanti giocatori di qualità, quindi se non si riesce a vincere l'importante è non perderla. Dopo un primo tempo buono, siete evidentemente carati nella ripresa, a cosa c'è quella la spiegazione che dai tu? Non ti so dare una spiegazione, io ti posso dire che abbiamo affrontato un periodo impegnativo per noi sia a livello fisico che mentale, è sotto gli occhi di tutti comunque le partite che abbiamo avuto, i loro cambi, gli hanno dato una spinta in più, ci sono tanti fattori che io non ti so trovare la causa, però sicuramente gli ultimi minuti sono da rivedere e da lavorarci su. Grazie. Grazie.